bentornati ragazzi in questo quarto episodio di residente 5 capitolo 2 su 2 arrivati nei presi di una stazione ci siamo sfruttati un po l'inventario così possiamo calapiare un po' più cose adesso noi abbiamo lasciato la mitraglietta così la utilizzerà soltanto scegliere cani non farsi qui cane e poi c'è pure la iena ok la iena che vabbè aveva le munizioni non so se da dove ma preghine eeeh ma garma iu e porca miseria mi guida a quello si si io mi sto spostando quello mi becca mamma che mi ha aumentato la potenza questo fucile adesso ti vengo a prendere guardiamo il secato lì ce n'era un altro però ci si esceva ma tu un po' per andare mi controlla la morte no e vabbè ma Chris ma sei un deficiente tu con questa pistola scendiamo va si si chiude da solo una cosa di legno che si chiude da solo senza meccanismo si chiude da solo va bene ok qui gps non disponibile non farà male fai tu luce tu comunque stai messa molto meglio con le armi ma vedi se mi vai avanti però perché io devo vedere questo questo mamma mia per il rotto della coppia ce l'ho fatta questa qui poi che aiuto te ne dà qui c'è un altro sicuro questo questo non ce la fanno non ce la fanno una porca miseria e guarda lì e guarda lì cavolo ho tanta colpi con quest'arma non male che l'ho potenziata non ce la fanno così Ma c'è ancora quella testa maledetta No male che la musica ci avisa Si c'è qualcuno Questo Oh, c'è l'abbiamo fatta Vai, vai, usa questo, vai C'è l'abbiamo fatta Puoi lasciare, scepa E adesso ci sarà un po' da divertirsi Bene, non c'è più tempo Attent Grazie 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 dobbiamo salire su qui c'è quella che ci sta lambucciando e esplosivo adesso ti faccio vedere io è stato la stai non c'ha niente la stai non c'ha niente Grandesimo, non l'ho ricordato Andiamocene pure senza aver ucciso per tirare L'importante è di essere arrivati alla fine della strada Spence, tutta la store di Resident Evil Allora facciamo che questo Ok Adesso si che possiamo andare Perché tra poco c'è un altro boss So you must be urban Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists Oh, I'm not like them I'm a businessman with sand Drop the weapon Or How about you drop yours? Hurry up Suckers No, adesso c'è tutto l'esercito Oh, great Looks like Irving has a partner It must be something here you didn't want us to see What is it? Look at this Mmm, pianta petrolifera Da ciment the note Ese Delta team 顆 irving we got away Mark I think he's heading through an oil field in Mars Kelly Maps and Owner Ins Questa è un'esame che fucive da c'è il filmato. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. dai marce di posorella il il che st st Rieland! RELAND! Uuuuh. Eccidio ciò che è un baller. So, un baller. e andiamo subito e andiamo Ok, qui ci sono gli altri. Devono cercare di salire. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E avete finito di rompere l'angelo. Muoviti, muoviti. Dai, prima che arrivano quelli. Chia, ciao. Chia. 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 ok non ha più spazio ok mi sa che devo utilizzare questa ci sono delle trappole che dovremmo utilizzare adesso perché c'è misterioso grazie a tutti e poi non è così non va in giro per il mondo no viene a rompere il cavolo a me grazie a tutti toliti 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 poroyable e thank you toliti toliti It's all delusion